Quest'idea, il lavoro dà libertà e lo studio dà libertà, perché molto spesso noi pensiamo che andare a scuola, studiare, dover dare gli esami, essere costretti, essere giudicati esame dopo esame dai prof e poi andare a fare i colloqui, ancora di nuovo essere giudicati dalle persone che possono offrirci un contratto oppure no e poi nel momento in cui siamo assunti essere obbligati ad andare tutte le mattine in un certo posto, a fare un certo lavoro, molto spesso è facile pensare che sia una costrizione e invece non si pensa a quanto sia l'essenza della libertà di ciascuno di noi poter imparare, portare dentro di sé delle conoscenze in più, un modo, un alfabeto per poter leggere il mondo e poi nel momento in cui si va a lavorare potersi mantenere con le proprie forze, questa è veramente l'ebrezza più forte di essere completamente liberi, potersi mantenere con le proprie forze, poter fare le proprie scelte in ragione del fatto che sia capaci di fare qualcosa e si riceve una retribuzione per ciò che si è capaci di fare. È davvero, io penso, l'essenza di essere liberi e di diventare pienamente adulti. Infatti in realtà il lavoro con la Repubblica degli Stagisti che io faccio è proprio un lavoro per cercare il più possibile di cambiare questo mercato del lavoro italiano che non è propriamente sanissimo e cercare di rimettere al centro la dignità delle condizioni offerte agli Stagisti, in particolare ovviamente il titolo della testata giornalistica è tutto un programma, ma più in generale ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, poi magari avrò modo di parlarne. Ma adesso invito il nostro terzo ospite che come Cristina Franceschi ha anticipato nel suo intervento è un po' l'ideatore di questo progetto di diritto al lavoro, Roberto Vaccani, che è un prof che insegna anche alla scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi e che, diciamo, ho avuto modo di conoscere l'anno scorso nell'evento come uno con cui certamente non vi annoierete, ragazzi. Buongiorno, allora un flash, due o tre flash per centrare, spero di riuscire ad arrivare alla vostra comprensione, il perché di questa attività. In parte ce l'abbiamo dentro, io da 47 anni di lavoro faccio un lavoro che è un deragliamento, io prima pensavo che fosse solo un deragliamento, che è un lavoro che ha deragliato totalmente dagli studi fatti. Cioè ho cominciato a fare un lavoro nel 1970 che non c'entrava con economia e commercio, anche perché avevo scoperto, ci ho messo molto a capirlo, che economia e commercio non c'entrava con me. E quindi ho cominciato quasi da zero non si comincia mai, perché tutti gli studi sono utili, anche quelli apparentemente sbagliati ti danno una capacità di riflettere, di capire i problemi, di analizzarli, di usare al massimo l'intuito e il tuo buonsenso per risolvere i problemi. Qualsiasi studio è utile. Certo dal punto di vista delle tecnicalità, dei metodi, economia e commercio, la partita doppia, dare e avere, rate e riscontri, chi di voi è tormentato da queste problematiche? Attenzione, se è uno studio coerente con le attitudini, se non è coerente con le attitudini ti porti dentro, da giovane ma anche da vecchio se non cambi, se non deragli presto, ti porti dentro una non soddisfazione, ossia stai facendo un'attività che è coerente con le competenze acquisite a scuola, nello studio di base, in fondo la scuola cosa fa? Ti dà strumenti dalla pelle a fuori, senza stare a guardare dalla pelle a dentro chi sei, ti dà degli strumenti più o meno coerenti con determinati lavori. Soprattutto dalle medie superiori in poi, se poi si va all'università, tendenzialmente la scelta del percorso scolare è anche fatta orientativamente rispetto al lavoro che vorresti fare. Di fatto io mi sono portato dentro questo problema e guarda caso quando uno riesce a fare un lavoro che gli piace, che è attitudinale, non riesce a non portare dentro qualcosa di se stesso nel lavoro. Quindi questo problema di orientamento attitudinale non dalla pelle a fuori, perché la scuola, ripeto, ti dà logiche, metodi e tecniche dalla pelle a fuori per dare prestazioni di mestiere. Raramente, ma questo non dipende dagli insegnanti, dipende dalla struttura della scuola in sé, dalla logica della scuola, ti contempla come persona dalla pelle a dentro. Ma tu chi sei? Cosa ti piace? Quali sono i tuoi talenti? Quali sono le tue attitudini? Dal punto di vista delle attitudini noi siamo unici e irripetibili nella storia, perché ognuno di noi ha un'avventura di vita diversa dagli altri e le attitudini si edificano sulla nostra specifica avventura di vita, sulle nostre storie. E quindi siamo unici e irripetibili. Tendenzialmente la personalità degli individui, quindi l'epoca nella quale puoi andare a leggere e aiutare le persone nel leggere le attitudini è nell'intorno dei 16-17 anni. Ci siete? Perché a 16-17 anni, studi scientifici, non sto qui a rompervi l'anima sulle neuroscienze, dicono che la personalità dell'individuo nei punti forti e nei punti deboli, i punti forti delle nostre attitudini e i punti deboli sono già presenti e saranno quelli di tutta la nostra vita. Quindi è il momento ideale per affrontare l'orientamento attitudinale. 22 anni fa mi è stata data la possibilità in Università Bocconi di far nascere un servizio interno che adesso è gestito da 100 orientatori, che non fa altro che fare il servizio di orientamento dall'uscita dall'università all'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi in questo cerca di attutire la discontinuità tra scuola e lavoro. La centratura della nostra attività, chi di voi l'ha fatta, la spero non fatta, assunta e non subita? Credo siano le prime file, no? Gentileschi con Aurora. E anche qui le prime file sono quelli che sono stati implicati nell'attività nelle scuole. Chi l'ha assaggiata sa che l'obiettivo è quello di dare, offrire ai giovani strumenti di autopercezione e autolettura e autoverifica dei punti forti e dei punti deboli in modo tardi da poter vedere se c'è un match, se c'è una assonanza, se c'è una distanza tra le attitudini e i lavori. È chiaro che più c'è distanza tra le mie attitudini e il lavoro, più soffrirò dal punto di vista psicobiologico di fenomeni di stress negativo. Più c'è assonanza, più sto facendo un lavoro, che si avvicina alle mie attitudini, tanto che potrebbe essere quasi quasi assimilato all'hobby, lavoro che piace molto, non ha una distinzione tra hobby e lavoro. Quando comincia a pensare, ma facendo questa cosa qua, non ditelo, perché sennò vi prendono alla lettera, quasi quasi lo farei senza essere pagato, pensatelo ma non ditelo. Vi strozzo se lo dite. Ma quando dentro di voi sentite che quella cosa vi piace, tra l'altro sappiate che ci metterete, quando entrerete nel mondo del lavoro, ci metterete almeno un paio d'anni per acquisire quella che io chiamo adultità lavorativa, perché all'inizio sei gasato, perché cominci a entrare davvero nel mondo del lavoro, guadagni qualcosa, puoi ottenere quello spazio di enorme libertà che è dovuto al fatto di essere autonomi dal punto di vista economico. Se l'autonomia, quando c'è adultità lavorativa, all'inizio ti piacciono tutti i lavori, anche quelli non attitudinali, perché cominci a imparare qualcosa, sei gasato, dopo due o tre anni cominci a buttare in giro gli occhi e vedere quali sono nel mercato del lavoro, nella vetrina del lavoro, le attività che ti piacerebbe più fare e magari non c'entrano niente con quello che stai facendo, ma c'entrano con te. Allora io queste cose le chiamo deragliamenti e col senno di poi li chiamo deragliamenti intelligenti. Deragliare da un'attività che non è attitudinale e non è coerente con gli studi fatti per andare verso un'attività che è coerente con le mie attitudini è un deragliamento intelligente, di successo. Sappiate che più del 60% di persone oltre i 45-50 anni che oggi fanno un lavoro di indubbio successo per loro e per le organizzazioni per le quali lavoro o per l'attività che fanno, se è un'attività artigianale, più del 60% fanno oggi un'attività che c'entra poco con gli studi fatti. Questo non squalifica la scuola, questo squalifica questa ossessività che un tempo era funzionale di fare un mestiere che sia strettamente in assonanza con gli studi fatti. È chiaro che se gli studi sono attitudinali va benissimo, ma se gli studi non sono attitudinali cominciate a mettervi in testa il progetto di deragliamento intelligente, di andare verso le attitudini. Per questo l'obiettivo dell'attività che noi facciamo è quella di dotare, diffondere nei giovani e nei non meno giovani. Tenete presente che il modello che viene usato per l'orientamento è un modello che viene usato dai 16 ai 65 anni per orientare e riorientare le persone, quindi non ha età. Ed è un modello di protagonismo di scelta. Questo protagonismo di scelta non avverrà subito, non troverete subito il lavoro che fa per voi probabilmente, a meno che abbiate un colpo di culo che non si dica, ma si può sbagliare la scuola, si può sbagliare il primo lavoro, si può sbagliare il secondo lavoro, dal terzo in poi, visto che il mondo del lavoro è sempre più disordinato ma ricco di opportunità diverse. Una ricerca internazionale ha stabilito che nel 2022-2023, domani, più del 50% dei lavori sono oggi inimmaginabili. Quindi il mercato del lavoro è meno garantito, più disordinato ma più ricco di opportunità di scelta. Quindi avrete tempo per scegliere. Probabilmente non sarà il primo lavoro, non sarà il secondo, ma dal terzo in poi aguzzate gli occhi, aguzzate la sensorialità plurisensoriale e cominciate a gustare le scelte sapendo quali sono le vostre attitudini. Quindi il problema del conoscere dalla pelle a dentro le nostre attitudini è fondamentale per essere protagonisti nelle scelte e sbagliare il meno possibile e aggiustare il tiro più velocemente. Si sbaglia sempre, nella vita si apprende più per errori che per averci preso. Quindi sbagliare ma capire perché hai sbagliato, questo è uno strumento che permette di capire quando sei fuori dalla tua soggettiva rotta di lavoro. In bocca al lupo. Grazie proprio. In effetti si dice che fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita. Questo vi posso dire che è una cosa carina da dire ma non è vero. Io faccio un lavoro che amo tantissimo, me lo sono addirittura inventato perché l'attestata giornalistica per la quale lavoro è l'attestata giornalistica che io ho fondato, ma vi assicuro che ci sono dei giorni in cui torno a casa distrutta e quindi di certo anche se fai qualcosa che ti piace, la fatica c'è, i problemi ci sono. Quello che però è verissimo è che se uno fa qualcosa che lo appassiona, quella cosa gli dà una gratificazione in più. Grazie.